I microfoni di TSC Sport siamo con Enrico Fortunato, giocatore della Manzoni Sportandria. Enrico, allora, sabato è arrivata una vittoria importante contro una squadra titolata del nostro campionato come il Rutigliano. Quali sono le impressioni a mente fredda su questa vittoria? Penso che la partita di sabato è servita sia al gruppo perché venivamo da qualche sconfitta e quindi vincere contro una squadra a testa di serie che è una delle squadre preferite per la promozione in B2, ha dato molta fiducia al gruppo perché serviva e ha alzato molto il morale, cosa fondamentale in questo momento. Dicevi appunto il gruppo, possiamo dire che quest'anno il gruppo è abbastanza coeso e la coesione è anche la forza di questa squadra? Sì, il gruppo secondo me è la parte fondamentale di questa squadra perché comunque siamo ragazzi, molti vengono delle giovanili tipo me, altri di grande esperienza. Appunto la coesione fra esperienze giovani è anche l'umiltà da parte di entrambi perché sia i ragazzi che vanno a un passo così grande sia gli altri che sono costretti ad andare un po' indietro è stata una cosa perfetta. Quindi dà una mano sia alla società che anche allo sport in generale questa cosa qui. Allora, due sabati fa abbiamo visto il tuo debutto contro il Rutigliano, ecco, hai disputato insomma una buona partita per il set in cui hai giocato. Quali sono state le tue impressioni in questo debutto? È stata una cosa fantastica, quando sono entrato non capivo più niente, mi ero dimenticato tutto dalla palla a volo. Però sono belle esperienze che auguro a tutti i ragazzi della mia età e niente, spero di avere altre occasioni per entrare e far bene. Un'ultima per concludere, sabato si giocherà sul campo del Modugno, squadra attualmente sotto di noi in classifica con sette punti. Come state preparando questa partita per portare a casa un'altra vittoria importante? Prima di tutto la massima concentrazione in palestra, anche previsto che comunque la partita di sabato ce la dobbiamo dimenticare perché ora si inizia da punto a capo. Contro il Modugno è un'altra squadra, i punti secondo me a questo momento del campionato non servono molto perché non svelano la vera potenza di una squadra. Quindi secondo me è una partita tutta da giocare e possiamo giocarcela. D'accordo, grazie.